Ancora un importante riconoscimento per i produttori enologici di tollo che vedono premiata la vocazione di un territorio con più di mille anni di viticoltura alle spalle. La DOP Tullum diventa ufficialmente DOCG, la denominazione di origine controllata e garantita che rappresenta il gradino più alto nella piramide qualitativa del vino italiano. Un traguardo raggiunto grazie al saper fare squadra, testimonia ancora una volta la vocazione alla viticoltura d'eccellenza delle terre tollesi, dietro la quale c'è storia, tradizione, identità e ricerca. Ma cosa rappresenta questo prestigioso riconoscimento e soprattutto cosa accadrà in futuro? Ce lo spiegano l'enologo Riccardo Brighigna che è papà di tanti vini tra i quali Tullum e Andrea Di Fabio, direttore di Feudo Antico, la cantina che produce questo prestigioso vino. Il ministero ha valutato sia la storicità del territorio di tolle, su questo non ci sono dubbi, e poi bisogna dimostrare di aver avuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, sia a livello di mercato che di concorsi enologici. Insomma, bisogna dimostrare di avere una qualità superiore. Tutti hanno riconosciuto la reale qualità superiore dei vini del territorio tollesi. I tollesi spero che non lo interpreto come un punto di arrivo, ma un punto di partenza per un'ulteriore caratterizzazione, che l'Abruzzo ha bisogno di queste caratterizzazioni territoriali, di queste doc, di queste microali di produzione, che possano aumentare il valore dei singoli territori. Perché in fondo non ci scordiamo che noi abbiamo un vitigno, il Monte Pulciano. Se non andiamo oltre nella caratterizzazione delle diverse aree, è chiaro che poi risulta difficile per i nostri commerciali poter portare avanti un discorso di qualità superiore e scalare le fasce di mercato che attualmente occupiamo a livello internazionale. Sicuramente è una certificazione di ulteriore qualità per il consumatore finale, soprattutto per il consumatore finale in questa fase italiana, che riesce ad apprezzare con maggiore consapevolezza questo traguardo. Le aspettative erano anche alte all'estero, dove comunque la DopTulum si sta facendo conoscere. Noi lavoriamo molto bene in diversi paesi, soprattutto in paesi dove qualche tempo fa, quando abbiamo pensato a farla nascere, non avremmo mai immaginato di vendere i nostri vini. Parlo ad esempio della Cina, dove hanno accolto già da ora con grosso interesse questo cambiamento e credo che possa essere uno strumento per veicolare ulteriormente il valore di un territorio che è sempre stato apprezzato e che adesso non lo sarà ancora di più. Grazie.